Ciao a tutti ragazzi, siamo qui sull'F12, come vedete l'ho già tutto smontato praticamente Qui abbiamo una trasmissione fantastica, c'è la cinghia della Yamaha, poi c'è la molla gialla E questa non ho ancora capito, ma sembra tanto una malosso questa Non so, questa mi sembra tanto una malosso, ditemi nei commenti se lo sapete Poi dopo, ho pulito, guardate qua, ho pulito alla perfezione tutto qua Pensate che ho pulito qua, ho pulito perfettamente qua, con la benzina Poi vediamo un attimo il carburatore Guardate qua, fa male la schiena atomica, guardate qua 22 mamma mia signore, 22 Guardate là, 22 Più, mamma mia I due radiatori, aspettate un attimo Due radiatori che devo pulire Le chiavi con un rollo e un coso, va bene Ho scoperto adesso che c'è questo qui, che mi dice la temperatura Ragazzi, se qualcuno lo sa, io ho questa vaschetta per l'F12 Ma se voi vedete all'interno È sporchissima Però ho provato a vedere E non è che viene via quei residui Qui abbiamo l'Apollini Team No, scusate, l'Apollini 4Race Che memoria di merda Comunque lo scooter è fantastico ragazzi Cioè, è verniciato da Dio Comunque, allora, se sapete dirmi Ditemi della vaschetta E se quella lì è una Malossi O cosa monto sopra Perché io, questa qui, mi sembra tanto una Malossi Però non lo so Se me lo sapete dire Mi fa molto piacere Guardate qua, aspettate vi faccio vedere Il Sinidretto Mamma mia signore Mamma mia Ci vediamo al prossimo video